Sarà nuovamente la Roccaflea, il teatro del Gran Galà dell'imprenditoria di Gualdo Tadino, atteso domani a partire dalle ore 18, un format ideato dal direttore del Polo Museale Gualdese Katia Monacelli, che premia quelle aziende italiane che hanno fatto della cultura del bello la chiave di volta del loro fare impresa. L'evento è promosso dal Museo Regionale delle Migrazioni Pietro Conti, dal Polo Museale Città di Gualdo Tadino, con il patrocinio dell'amministrazione della provincia di Perugia, della regione e il contributo del sole 24 ore formazione d'eventi. La serata sarà condotta dalla giornalista Rai Roberta Serdoz e vedrà la presenza di stand espositivi di aziende che sono anche gli sponsor tecnici dell'evento. Per l'occasione la giovane casa di moda gualdese, Pizzart SRL, realizzerà un foulard d'arte in seta ispirato al Gran Galà, mentre l'azienda OBC Italy di Perugia presenterà un progetto su t-shirt che beneficia di tecnologie di ultima generazione. Al via anche quest'anno la terza edizione del Gran Galà dell'imprenditoria. Un'impresa d'arte nasce come connubio tra il mondo dell'arte e il mondo ovviamente dell'imprenditoria eccellente, il sapere che si unisce al saper fare. Anche quest'anno imprese eccellenti che saranno premiate in tutto 14, ma per anticipare qualcosa possiamo citare per esempio l'erbolario, una delle più grandi aziende italiane in fatto di appunto erboristica. O ancora il grande marchio Torpado, noto per le biciclette ovviamente professionali, si parla di un marchio made in Italy che gira in tutti i sensi il mondo. E' importante per questa premessa soprattutto perché delle aziende decidono di presentare, di far volare in alto il loro brand proprio scegliendo questa piazza.